innanzitutto chi è cristiano turato una presentazione per i nostri lettori allora sono come scrivevo l'altro giorno in un post sono figlio marito padre e amico e poi naturalmente un musicista innamorato dell'arte che ha iniziato da giovanissimo a a far musica e ancora innamoratissimo di questa cosa e l'arte per me è una specie di come posso dire di 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 nave di nave che non finisce mai di viaggiare quindi si ferma in qualche porto però poi riparte per nuove avventure e nuovi e nuovi incontri pure anche quello con te è un nuovo incontro e ne son felice ne sono felice anch'io e una di queste avventure è stata quella durata cinque anni con i nomadi sì prima di arrivare lì però insomma ho iniziato i dodici anni a suonare ai sedici concretamente poi a cominciare a suonare in giro per per il veneto allora perché io sono di padova e da lì poi ho studiato perché bisogna farlo e ancora lo faccio chiedete a mio figlio insomma che che sta qui con me nell'altro stanzino a studiare ancora lo faccio e e sono in una perenne gavetta e ho studiato molto ho incontrato molte persone mi sono specializzato in computer music music in sintetizzatori ho studiato basso chitarra pianoforte insomma ne ho fatte di di cotte di crude e poi naturalmente ho avuto soprattutto due band e inizialmente una che insomma con cui ho suonato circa una decina d'anni poi ne ho avuto un'altra con cui che è stata quella prima di andare nei nomadi che prendeva il nome di madalene e con cui facevo dell'elettro rock in edito naturalmente perché nei miei spettacoli ho sempre ho sempre da sempre presentato i miei inediti e poi insomma un po di repertorio di cover in generale che poi cambiavano a seconda del periodo c'è stato il periodo degli anni 90 in cui mi piaceva molto il grunge e quindi tutta la parte di Seattle dai Pearl Jam ai Sun Garden agli Alice in Chains e tutta quella quella cerchia grunge dell'epoca che insomma a me piaceva molto per poi naturalmente parallelamente io lavoravo in studio di registrazione come assistente di studio come arrangiatore già vent'anni quindi e e quindi poi conoscendo la computer music che che allora altro che un mac e una scheda lì ci volevano i soldi e tanta e tanta intelligenza ed era molto difficile poi comunque insomma se vai in cerca in quegli anni tra gli anni 80 e 90 per costruire qualcosa a livello digitale era veramente un lavorone e nulla fino ad arrivare poi a Madeleine con cui ho fatto circa una decina d'anni ma poi le formazioni sono cambiate fino al 2005 che si è stabilizzata con quattro elementi batteria chitarra basso e il sottoscritto che aveva una postazione di sintetizzatori e cantava fino al 2010 2011 in cui dovevamo convolare a nozze con un contratto discografico molto importante però poi non se ne è fatto nulla e poi sono stato chiamato dei nomadi ho fatto cinque anni li ricordo piacevolmente è buono giustamente hai detto della tua postazione con l'elettroni e la voce ma ricordiamoci tu hai studiato pianoforte e tarra eh sì ma io ho studiato allora nei negli anni nei miei anni quando ero giovane eh ho studiato circa 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 10-11 anni quindi insomma poi mi sono diplomato in canto moderno jazz e via dicendo però all'interno del piano di studi c'erano diversi strumenti quindi pianoforte quindi basso quindi chitarra eh la mia intenzione era quella armonia eh la mia intenzione era quella di insomma di sapermi muovere all'interno delle canzoni e quindi eh da prima quando si è giovani si si sentono le 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 bellissime canzoni dell'epoca o o anche ora e e si cerca di imitarle poi ci vuole qualcosa in più e quindi eh oltre all'esperienza ci vuole anche uno studio che non finisce mai lo ripeto lo ripeto perché ha anche questa mattina ho passato circa circa due ore poi ho figli famiglia quindi ho tante altre cose da fare ci ho passato circa due ore di studio e quindi eh insomma è molto importante questa parte nella vita di un musicista perché chi si ferma e e senza un motivo e pensa comunque di aver raggiunto un livello tale da non poter più aggiungere altro secondo me è un limite è un limite e questo limite non deve essere messo perché ogni ogni giorno anche incontrando persone o o anche solo che so la posizione del terzo dito sul pianoforte che due giorni fa era sbagliata e magari oggi stando leggermente più attenti si può migliorare e insomma e si va avanti e oltre allo studio c'è l'esperienza sono tanti anni e sei in attività l'hai detto tu stesso le due band poi i nomadi poi è arrivato il progetto i video subito dopo i nomadi no il progetto i video è in realtà è che è nato nel 2015 e poi si è concretizzato poi in un in un disco che è uscito marzo 2016 e il disco prende il nome dei quando sogno sparisco un disco è una specie di palestra con cui io e alberto roveroni ci siamo divertiti alberto roveroni è un mio carissimo amico ormai ci conosciamo da venti venna ventina d'anni più o meno e lui ora padovano però ora da dieci o quindici anni è a milano per lavoro e nulla abbiamo preso tutta la nostra esperienza che avevamo accumulato in tantissimi anni in tantissime esperienze e abbiamo deciso di di fare questo questa pazzia abbiamo fatto uscire questo disco che è un disco di pop elettronico bellissimo che non ha limiti discografici quindi non ci siamo come dire preoccupati di arrivare al ritornello a 30 secondi o 20 secondi o 15 secondi ci siamo soltanto preoccupati di di fare della musica progettare della musica produrre della musica senza avere la p il piglio di e la preoccupazione di di avere dei paletti infatti se hai la fortuna ora avrai la fortuna di andarti ad ascoltare sto disco è un disco assolutamente stranissimo perché parte è un pop generalmente un pop elettronico però dentro c'è dell'edm c'è dell'epic music c'è ci sono un sacco di elementi che che a noi piacciono a noi intendo io e io ed alberto e e quindi insomma è stato un un allenamento molto 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 interessante naturalmente ancora aperto perché non abbiamo mai chiuso questo 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 duo che poi è diventato un trio perché si è aggiunto al maestro nicola lombardi e non l'abbiamo ancora chiuso ogni tanto quando ci va di di fare qualche serata e ricordo il palco che non è un palco semplice è stato un palco progettato da da due menti la mia e quella di alberto è un palco iper tecnologico insomma con dove i computer e quello che serve e portano avanti lo spettacolo e quindi è tutto sincronizzato e tutto con video video wall con insomma è uno spettacolo molto molto bello che in italia non 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 andrà e non non andava non andrà ma ma qui stiamo stiamo parlando dovremmo parlare di altre cose fuori dall'europa fuori dai nostri confini sì sicuramente ma qui no però un bellissimo allenamento bello 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 alberto rovenoni è presente nel tuo ultimo lavoro oltre ovviamente a francesco pisana sì il disco è stato scritto interamente da sottoscritto per musiche testi è stato riarrangiato poi a quattro mani e a sei mani a seconda poi del del brano la festa è stata scritta a sei mani riarrangiata a sei mani e come dal resto un po tutto il disco insomma e beh ma perché perché c'è una sintonia poi con con alberto e quindi riesce a tradurre velocemente semplicemente il suono che io ho dentro la testa e quindi e quindi abbiamo lavorato tempi non sospetti perché il covid non c'era ancora ognuno comunque nel suo studio e io mi sono occupato di arrangiare diverse cose tutta la parte di chitarre di bassi sintetizzati dei dei pianoforti dei dei sinti in generale e francesco pisana si è si è adoperato nelle parti orchestrali nella festa eh durante il il monologo siciliano ci sono delle partiture d'archi che ha scritto lui e insomma ci siamo inventati questa cosa poi abbiamo messo insieme le cose sono state mixate da d'alberto e insomma masterizzate a milano sia al nautilus all'energy mastering nautilus si chiamava tantissimo tempo fa e credo insomma sia un lavoro sia un lavoro molto bello e e secondo me ad ascoltare perché è molto vario sì giustamente e vantan e delle collaborazioni importanti perché oltre a francesco pisana abbiamo citato prima daniel bestonzo e arlo anebana in monologo di festa sì e aggiungo anche max greco max greco e daniel bestonzo sono due musicisti professionisti di insomma basta andare basta googolare e vedrai con chi suonano e sono sono professionisti d'altissimo profilo e però hanno la caratteristica di avere anzi di abbinare la loro professionalità al loro cuore allora alla loro anima quindi ogni cosa che vanno a fare e la e ti garantisco che la fanno velocemente ma hanno proprio questa questa magia magia di abbinare la professionalità a un cuore e quando un professionista un musicista lo fa si sente arriva e funziona sempre e poi carlo caneba ne parlavamo prima del monologo siciliano ha insomma ha voluto prestare la sua questa sua questa sua dote magnifica di di parlatore ecco diciamo lui è un comico è un nestroso e via dicendo ha fatto questo monologo siciliano partendo da uno scritto che ho prodotto io però in italiano e fidati in siciliano funzionava molto molto di più e quindi l'abbiamo l'abbiamo inserito all'interno della festa e penso insomma sia sia stata la scelta migliore e visto che sono che sono alla festa mi piace ricordare che che è un pezzo che parla della nostra maltratatissima Italia che ha preso frustrate sulla schiena negli ultimi vent'anni quindi la mia idea era proprio quella di di dar risalto di di dare anche un po di leggerezza a questo nostro paese bellissimo e che merita molto molto di più ma soprattutto merita la nostra intelligenza e la nostra attenzione sì oggi più e mai un'italia colpita da da questo virus da questa pandemia e sicuramente fa bene ascoltare un brano come la festa ma a me fa bene io l'ascolto l'ascoltata anche ieri perché dopo che che dopo che chiudo un lavoro aspetto aspetto un po prima di riascoltarlo e quindi mi sono rimesso da riascoltare ascoltare tutto il disco e devo dire la festa ti mette ti mette proprio allegria ti mette felicità ma in fondo è quello che volevo proprio dire io e ti posso dire di più la prima parte della strofa di tutta la strofa è proprio l'immagine vera di quello che ho visto io in un paesino calabrese mentre scendevo in una di quelle viete in questi paesini abbarbicati sulle punte di qualche collina in calabria e mentre scendevo verso il palco dove poi ho fatto un concerto insieme ad alberto bertoli e ho visto proprio questa signora fuori dalla porta seduta sulla sedia col rosario in mano ed è un'immagine vera e mi ha fatto pensare mi ha fatto mi ha fatto piacere e un po è un po devo dire insomma che quella sera lì e quella notte lì io ci ho ragionato perché io vivo al nord e quindi vivo un un vivo un posto che ha perso non solo il mio un po in tutto il nord abbiamo perso veramente ed è una critica che faccio a a noi noi nordisti se possiamo definirsi così ma abbiamo perso la voglia di sorridere di divertirci di essere a volte a volte persone semplici persone che che vogliono stare insieme per la semplicità e la bellezza di stare insieme e quindi insomma e lo voglio dire lo voglio dire l'italia deve ritornare a divertirsi deve ritornare ad essere ad essere come il bellissimo sud io da da dal centro in giù mi diverto dal centro in su è una tristezza che non gliela non gliela darei nemmeno al mio peggior nemico io da abitante del sud ti apisco e lo so andando ad analizzare il disco nella sua interezza è un disco molto frizzante molto all'ero è un vero piacere ascoltarlo ma c'è un filo conduttore tra tutti i brani il filo conduttore è quello della della vita di ognuno di noi è proprio riportare la semplicità delle cose a riscoprire ogni emozione ogni cosa che ci fa sentir bene io non mi sono preoccupato non mi sono preoccupato di inventare delle cose ma ho preso delle cose reali le ho scritte le ho messe in musica e ho fatto questa specie di bambino insomma che sta piano piano crescendo qual è il brano e non può assolutamente mancare nella playlist di cristiano turato il brano che non può mancare dell'ultimo disco no in generale generale ah in generale uno ovviamente se ce n'è più di uno quelli che non possono mancare beh vediamo 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 ma dei dei miei o posso anche citarne altri no sei libero di citare tutti i brani ok ok ora ora vado in cerca di un di un brano di peter gabriel ma non me lo ricordo in questo momento come come il tipo il titolo è proprio non me lo ricordo comunque il peter gabriel è uno dei miei maestri ma come i depeche mode per esempio e quindi prenderei un brano che non è stato suonato molto da loro però a me piace moltissimo e poi di peter gabriel guarda faccio faccio un google che non proprio mi scappa il titolo allora peter gabriel eccoci qua arrivo oh mon die vabbè non so mi verrà in mente ah ecco 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 sì sky blue sky blue bello molto bello e sì ma all'interno di sky blue poi c'era quattro quattro meravigliosi coristi che coristi che poi in realtà è una era o è un gruppo vocale che sono i blind voice of alabama e che all'interno del del live di peter gabriel che è uno degli ultimi che ha fatto che poi tra le altre cose ho visto ci sono loro insomma che ad un certo punto entrano entrano su su questo palco dove c'è questa specie di 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 uovo gigantesco e salgono con le quattro sedie e fanno tutta la parte la coda finale del pezzo c'è qualcosa e magari rimpiangi del del tuo passato e magari avresti fatto diversamente oppure non so un ricordo più buio possiamo dire della tua vita di artista ovviamente si avrei avrei gestito meglio l'ultimo periodo con con madeleine perché si poteva chiudere dopo dopo molta fatica e dopo aver girato l'italia e come abbiamo fatto noi e facendo molti sacrifici e avrei gestito molto meglio gli ultimi uno due anni e chiudendo con un contratto discografico molto importante che secondo me insomma avrebbe dato una mano poi anche non solo al sottoscritto ma anche alle persone con cui suonavo all'epoca che ricordo sempre in maniera molto piacevolmente ma poi tra le altre cose non ci siamo mai persi però quel periodo quel periodo lì mi è piaciuto molto perché era un periodo in cui si c'era proprio la quella quella sensazione di veramente di far della musica e farla nella maniera giusta abbiamo vinto tantissimi quei festival che non posso nemmeno scriverli perché non non ci starebbe nel foglio un tra le tra le altre cose uno molto importante che il festival di san ben san e poi noi siamo andati lì ricordo siamo andati lì veramente con ma non maniera molto semplice sono andati lì erano solte c'erano soltanto solisti e devo dire anche persone molto in gamba quindi e mai e abbiamo vinto con follia che poi tra le altre cose all'interno del disco follia suona molto diversamente rispetto alle altre nove ai ai nuovi brani perché follia è esattamente come è stata registrata nel 2009 2009 2010 è stata registrata così è stata mixata così è stata masterizzata così come la senti nel disco e ho voluto proprio è una specie di omaggio insomma a quel periodo e non ho voluto cambiarla l'ho tenuta così l'idea del dell'album la festa come è arrivata come è arrivata sono un ragazzo che sogna tu sì molto ecco ma durante la notte intendo sì qualche sogno lo fai ecco la festa è nata proprio proprio così io ho sempre ho sempre avuto penso sia un dono sognare vuol dire che sei che sei libero libero nel pensare libero nella tua anima se tu credi ci sia un'anima o nel cuore e via dicendo e quindi durante la notte ogni tanto qualcuno qualcosa ti mette qualche idea la festa è nata così ma tanti brani sono nati così io a me capita spesso di di alzarmi da letto con una melodia oppure con con un giro d'accordi oppure con un testo e la festa è nata è nata così è nata in una notte del 2019 nell'agosto del 2019 dopo quel concerto di cui ti parlavo prima e con me c'era tra le altre cose francesco mio figlio quello più grande io ho due figli gabriel 5 francesco 11 e lui stava dormendo erano le tre e mezza circa e io guardavo fuori dalla finestra la finestra piccolina e guardava proprio nella piazza che ormai era vuota c'erano ancora i ragazzi del service che stavano smontando un po' tutte le cose e sono rimasto lì un po' a prendere a godermi un po' l'aria fresca e un po' a pensare un po' a quelle immagini di cui ti parlavo e scendendo un po' per la stradina e poi anche nel concerto in sé nei visi delle persone in quello che si è detto sul palco poi ho scritto due cose poi mi sono addormentato e ho fatto un sogno e mi sono alzato proprio con queste due parole la festa da lì non ho avuto la sensazione che fosse un miracolo assolutamente ho detto la festa ma chissà perché e poi si è concretizzata nell'autunno del 2019 l'ho scritta l'abbiamo riarrangiata nella bellissima val di casies che è una valle vicino ai crucchi in italia però ora non mi ricordo dov'è esattamente vicino al lago di braies brunico in un maso in mezzo al bosco con alberto roveroni che abita in centro a milano quindi era completamente in ansia per via del fatto che non c'era nulla se non il bosco l'erba e uccellini rumori di animali durante la notte e lì è stata proprio concretamente concepita realizzata e riarrangiata ognuno aveva la propria stanza all'interno di questo maso che scaldavamo con la legna tra le altre cose e non parliamo di 40 anni fa parliamo del 2019 ottobre però sono esperienze da fare anche per adulti come noi che fanno dell'arte e l'arte deve essere riportata al suo posto e quindi molte volte ci vogliono questi giorni abbiamo fatti tre giorni in questo in questo maso ed è stato sono stati tre giorni di arte pura pura e la festa contiene l'energia di quei tre giorni e posso dire che si sente qual è il tuo barano preferito di quest album se ne hai uno ma c'è direi tutti però scelgo non è il mio preferito in realtà però scelgo luce perché perché il mio modo di dire insomma che che noi tutti siamo siamo collegati io e te anche in questo momento tecnologicamente parlando ma non solo ma non solo e allora parlo parlo di questa danza di questa danza che ogni essere umano dovrebbe fare in realtà la facciamo ma ce la siamo un po dimenticata riportando proprio la magia di questa danza alle stelle e quindi guardando guardando poi lassù perché il ritornello ci cita proprio guardando lassù vedo ballare le stelle corpi in movimento ma siamo di più però di questo che che vediamo siamo andiamo oltre a alla carne alle ossa al nostro intelletto e via dicendo io ci credo molto e quindi scelgo lei scelgo luce scelgo luce e basta io ti ringrazio per la disponibilità per essere stato in nostra compagnia chiudiamo con un messaggio per i nostri lettori visto il periodo se hai qualcosa da dire sì allora mi raccomando siamo stati in quarantena o questa clausura forzata e abbiamo cercato in tutte le maniere di uscirne ecco siamo noi in clausura non il nostro pensare facciamo attenzione a tutto quello che ci succede intorno e viviamolo come un momento positivo e che questo rallentare perché alla fine abbiamo rallentato e forse forse è un'opportunità ci porti veramente ad essere molto più non dico felici ma molto più essere umani piuttosto che terrestri ciao a tutti e grazie grazie mille a te grazie grazie